ci troviamo in compagnia di nancy alberto bolognesi titolari di un'agenzia di viaggi in centro a pavia ora anche tour operator parliamo quindi di turismo un argomento che fino a pochi giorni fa sembrava essere un pasto dolente invece oggi dati alla mano sembra che ci siano i presupporti per una ripartenza vera quindi iniziamo con un bilancio dell'estate 2020 poi iniziamo a parlare dell'inizio del 2021 e le prenotazioni già registrate per l'estate 2021 ok ciao lara eccoci qua allora direi che il 2020 l'estate 2020 è partita lentamente verso fine aprile primi di maggio ci sono stati tantissimi last minute perché ovviamente con l'incertezza il cliente non sapeva se poter partire quali erano le regole le disposizioni poi c'è stato il boom dell'estero quindi spagna e grecia alla grande una ricaduta della grecia nel momento che aveva messo il famoso tampone nessuno voleva partire e poi diciamo l'autunno è stato abbastanza tranquillo e in prospettiva dell'inverno verso appunto ottobre novembre ci sono stati alcuni last minute verso il lungo raggio per motivi lavorativi direi invece che l'inizio del gennaio c'è stata una vera svolta ho capito subito che le cose stavano cambiando dalle richieste molto verso il lungo raggio crociere di lusso crociere msc e costa e pian pianino andando verso febbraio marzo e soprattutto questo mese direi che siamo esplosi si può dire che abbiamo lavorato esattamente come il 2019 le richieste sono sempre medio alte il cliente è cambiato notevolmente mentre prima avevamo il cliente basso il cliente alto adesso c'è il medio alto che viaggia destinazioni sia lungo raggio medio raggio anche con la disponibilità di fare quarantena rientro perché si lavora in smart working quindi c'è chi è disponibile a stare a casa dopo magari il messico e farsi 14 giorni a casa tra l'altro adesso è cambiato perché sono diventati dieci giorni facendo un ulteriore tampone e le crociere di lusso non ci mancano stiamo progettando tantissimo per il 2022 ci sono tantissimi abbiamo intensificato l'area gruppi che prima facevamo decisamente meno ora abbiamo aumentato anche questo perché abbiamo visto nei cliente una forte richiesta di stare in compagnia probabilmente questa pandemia ha creato molto stress molto molto diciamo così solitudine e il fatto di aver organizzato questi piccoli gruppi il cliente è rimasto molto entusiasta e ce ne chiede sempre di più quindi un turismo interno assolutamente sì soprattutto dalla spagna dalla grecia gli americani sicuramente tarderanno ad arrivare un po perché l'america sta dicendo di non venire in italia ecco quindi non è fantastica questa cosa però sono sicura che poi dato che le navi sono anche in ripartenza gli americani verranno in europa sicuramente quindi toccheranno anche l'italia grazie grazie